lei è la capra ma cosa fai di togli tutto? non ho tagliato niente nooo ciao bambini rammambini potrebbe essere la nuova nostra intro ciao rammambini cioè ragazzi e bambini uguali rammambini rammambini come state? bene ma tu di chi sei? sei il dottore degli animali o degli esseri umani? tutto quindi posso fare entrare anche un cavallo? prego entri ha bisogno di essere curata da cosa? da che cosa? mi sa che ha mal di pancia calmo ma è un cavallo cos'è il cuore? questo non è che aiuta dottore come va il cuore? il mio tra l'altro mi spiega aiutato questa cosa è un maletto questo mi sembra il mio antivio e una piccola punturina una piccola punturina poverina ehi vuoi dire che sarà meglio? si basta voglio scusarti un po' la capra lei è la capra come hai te? lui è la caprite il dottore sa cosa è la caprite? si è un dottore curi la caprite eh l'ha messa che è tutto il cavolo vedi vedi che fai rispetto è la caprite allora ecco devo prendere questo che ti fa palmare ecco ancora? una puntura una puntura una puntura calmati non solo vuoi fare la puntura come facciamo? e adesso? e adesso? lo facciamo solo a dormitare? no 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 adesso è l'espressione 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 tu parli l'espanol? no 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 entiendes il mio idioma? no tu eras il dottore loco perché non lo voglio ricardo? perché non l'ho studiato no 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 maschi no preferisco l'espanol è maschi è lutto sì dov'è? ma cosa fai? ti tagli tutto? ma sei pazzo? no non hai tagliato niente ma per guarda che tagliato ma sei pazzo? si denuncia ma se la devo creare sta capote basta basta dottore sa che visto che l'endottore è pazzo si sono venuti a trovare dei pazienti speciali hanno sentito che era pazzo può curarli? stanno tutti male hanno lottato troppo hanno? hanno lottato troppo ma sono così piccolini come fa a curarli? me la spiega? stanno prendendo una ciringa piccolina ma ce l'ha? così piccolina? ah è nanzo è scappata guardate non io questa cosa la boffine fine guarda sei anche attaccato qua è nanzo è nanzo è nanzo è nanzo poverini non posso guardare dammi i brandini dammi i brandini dammi i brandini dammi i brandini guarda mi hanno trovato mascherina dove hai dato il pgmux? adesso te lo faccio vedere nooo dottore pazzo sei fermo calmati ma sono lunetta no è a meno ah quando è Romeo Romeo? ah lunetta? io non li conosco bene i pgmux io tolgo tutto il sangue ma perchè? bambini mi devo lasciare ora si cosparge di sangue come hai fatto con tutti i momenti ci vediamo al prossimo video mi raccomando mettete mi piace commentatevi al canale se no vi faccio visitare da noi vi ho avvertiti ciao 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 bambini ciao no ciao rambambini rambambini come state? rambambini esatto oggi vi abbiamo portato un super gioco mio i lockstars dell'asbro e io ho già preso questo ho già preso questo voglio fare quello che abbiamo guardate quanti ne abbiamo guardate bambini ne abbiamo tantissimi e si mettono sulle scarpe si mettono sulle scarpe sulle scarpe sulle scarpe ovunque guardate quanti ne abbiamo hai finito te guardiamoli anche lui e io prendo tutti questi basta io ne ho tre e io hai due due allora di quelli che abbiamo presi ne possiamo aprire solo uno io apro questo eeeh aspetta io te ne prendo uno e dopo questo no questo qua questo qua lo vuoi aprire te? no ma no no infatti io non ho il prossimo spieghetto quale vuoi aprire? una testa dopo ne avremo altri una testa quale apriamo? nooo questo chi comincia? io 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 ah si guardate ora vi faccio vedere il mio guardate uuuu quanti gadget il mio è un unicorno eh tu puoi scegliere solo una chiave guardate è perchè una di quelle apre l'altra no questo è il mio ah fino a chi te no aspetta non puoi scegliere solo uno allora li apriamo tutti e poi li apriamo tutti quanti con le chiavi? si datemi cominciamo aspetta ah ha detto prima lui no piano 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 allora vi aiuto io che col taglierino facciamo prima bambini guardate questo lo possono usare solo i? i cranti i cranti bravo i cranti i cranti i cranti i cranti mi possono usare i cranti vieni i cranti i capello stomaco perchè io perchè io ho 11 anni capito? ah ma è vero come no? a 9 anni ah dice anche le bugie io non ho una bugia io ce l'ho cascata ce l'ho cascata prima non è una bugia perchè anche la mia dottoressa ha detto che io dovrei avere 11 anni per avere questa stazza e poi adesso abbiamo tanti giochi dai 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 che voglio aprirli ma ci mettete due anni ecco una qua ma una chiave apre una è carinissima il mio ha una batteria che figo il mio è elettorico allora guardiamo guarda una batteria elettorica facciamo così adesso la voce deve scegliere una delle due chiave guardate questo è veramente carinissimo bambina avete visto? la voce deve scegliere una delle due chiave adami chiusi quella che sceglierà si dovrà avere ecco ok vabbiamo a vedere tutti i gadget guardate ci sono usciti questi ciao a te quali sono usciti? questi e le mie chiavi e qua devi far vedere poi guardate abbiamo ogni giocatore ha due chiavi vedete due colori diversi e un oggettivo oggettivo vabbè aspettate secondo quali sono le mie chiavi? mi hai perso le chiavi? le devi scegliere ad occhi chiusi ehm vediamo allora questa ok vediamo se mi apre provate ad aprire dai proviamo si anche io anche il mio tocca a te ok io scelgo questo yes bravo cucciolo guardate io due giottini ho un corno ce l'ho fatto ora dove le attacchiamo? vuoi un orecchino? non lo facciamo guarda allora da dove le attacchiamo? ah io attacco la mia collana guardate mi faccio oh eh io lo attacco ho sbagliato lo attacco lo attacco guardate ho un nuovo tondolino mi piace lo porto sempre in giro posso attaccare anche questo visto il mio come è si tu ci fatti e allora poso questa altra chiave simone è stato un genio li ha attaccati insieme bravo così non si perde mai ma questa chiave serve a niente eh mi sa di no mi sa che è un no 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 è che qui c'è un coso che devo fare no ma si apri così con le mani oh vedi oh e allora aspetta voglio verificare una cosa controllo prego prego vediamo ci hanno trollato solo una chiave funziona e l'altra te la porti con te oh no aspetta oh grazie ma non si apra più niente e questo dove l'attacchiamo bambini ma non si apra più niente come non si apra più niente usa l'altra chiave no ho usato questa usa l'altra guarda metto metto il suo micro non funziona metto il suo micro speciale ma adesso bambini dove possiamo attaccarli tutti questi gadget ho un'idea passami la scarpa la scarpa la scarpa ho lo scarpo tutto lente non lo accetto di te passami la scarpa la devo prendere oh guarda ho un altro tuo micro migliore la batteria sono lì del nome hanno il numero di serie avete visto quanti sono e ce ne sono altri tanti qua io metto tutti i gadget del mio primo qua ah si se andate sul sito dell'asbro troverete quindi volete che ne prendiamo altri che giochiamo mettete mi piace commentate e iscrivetevi al canale ciao mambrini ti saluta ciao